Ciao a tutti e bentornati ad Overa Gondor, il canale YouTube dedicato al Signore degli NLLCG. Questa sera iniziamo questa nuova rubrica dedicata allo stato del gioco. Ci andremo a parlare un po' delle news, degli eventi della community, dei video che sono stati fatti sul canale, dei video che faremo. Insomma faremo un po' il punto di come si sta evolvendo il Signore degli NLLCG come gioco a livello generale ma anche a livello di community italiana. Cercheremo di tenere questo appuntamento diciamo mensile in modo tale da poter insomma dare una continuità a questa cosa. Allora anzitutto le news diciamo a breve in Italia usciranno i quattro starter deck, i Nani di Durin, gli Elfi di Lorin, i Difensori di Gondor e i Cavaliere di Rohan che sono diciamo una novità di questa riedizione del Signore degli NLLCG. Comprendono carte di tutto il pool, abbiamo avuto modo di parlarne diffusamente nei vari video di cui vi lascio poi il link qui sopra. Non ho esaurito diciamo le considerazioni, i playthrough su questi mazzi che vedremo poi più in là. Per cui a brevissimo usciranno questi pack, io li consiglio assolutamente per i giocatori della prima, della seconda era scusate, per i giocatori della prima qualora non avessero un pool completo potrebbe essere un ottimo modo per andare a recuperare varie carte che insomma non sono riuscite a recuperare nel tempo. Allora, guardiamo esattamente che tipo di carte ci sono in questo pack, cioè prendiamoci un minuto per guardare, e questo è venuto fuori sul gruppo Facebook internazionale, poi anche sul nostro gruppo italiano, quali sono i cicli, diciamo, della prima era che sono stati rappresentati in questi quattro starter. Quello che vediamo in maniera molto chiara, molto semplice, lo vediamo sia qua che qua, è che sostanzialmente tre cicli più l'espansione Signore degli Anelli Saga non sono quasi minimamente rappresentati in questi quattro starter. Il che è molto incoerente perché il ciclo di Ankh-Mar sviluppa principalmente l'archetipo dei Dunedain, il ciclo della Dream Chaser, quello dei Noldor, il ciclo delle Red Mitrim, diciamo che si concentra sul tratto Dale, più chiaramente in ogni ciclo sono in realtà sviluppati carte che appartengono anche ai Nani, a Gondor, Ron e così via, però è indicativo e ha creato un po' di speculazione sui gruppi questo aspetto, quello per cui questi tre cicli, che tra l'altro a mio avviso sono veramente tra i più belli, di cui in italiano, ricordiamo, esiste intero solo il ciclo di Ankh-Mar ad edizione Giochi Uniti, metà ciclo della Dream Chaser e non esiste le Red Mitrim, sono quelli che presumibilmente potrebbero essere stampati. Quindi, diciamo che, visto che molti chiedono, mi chiedono, si parla, che cosa conviene acquistare in questa fase? Allora, sulla base di questa tabella io direi che non conviene in assoluto acquistare questi tre cicli e le espansioni Saga, perché ragionevolmente possiamo aspettarci che questi siano i primi a venire, diciamo, i primi che subiranno la riedizione ad opera FFG a Smoda Italia. Quindi io non mi orienterei su questi cicli nella maniera più assoluta, il che sarebbe un'ottima notizia, perché vorrebbe dire che avremo a disposizione dei cicli tra i più belli, forse anche tra i più evocativi, e che vanno a sviluppare dei tratti che non sono attualmente presenti nello starter, per non parlare poi delle espansioni Saga, che insomma sono veramente tra le espansioni più belle uscite. Peraltro, un'altra news è che in uno dei podcast Cartalk, il creatore del gioco, comunque uno del team del gioco originale, che è Caleb Grace, ha effettivamente confermato un po' queste speculazioni, perché ha detto che pur non facendo parte, diciamo, del marketing, perché lui si occupa, se vogliamo, della parte tecnica, e si è battuto in ogni sede affinché i nuovi giocatori non si ritrovino carte ristampate o ragionevolmente non ristampate. Questo fa ben sperare e pensare che, insomma, i primi cicli ad essere ristampati potrebbero essere questi qui evidenziati in verde. Tenete presente una cosa, questo problema del che cosa compro, ce l'hanno un po' da tutte le parti del mondo, in particolare in Italia siamo in una situazione ancora un po' più sfortunata, perché noi abbiamo avuto un cambio di editore in corrispondenza con la Revised, per cui, mentre in America l'editore rimane quello e i nuovi giocatori non sanno se andare a prendere i pack vecchi, perché non sanno se verranno ristampati nella nuova edizione, noi in Italia abbiamo un ulteriore problema, che è quello del fatto che l'editore è anche cambiato. Quindi, siccome molti dicono cosa compro adesso, cosa prendo adesso, allora io, diciamo, alla luce di oggi direi sicuramente di non prendere i cicli in verde, eviterei di partire dalle ombre di Boscoatro, perché anche qui la community pensa, diciamo, sulla base così, del fatto che ci sono alcune carte staple, sul fatto che è il primo ciclo e così via, che questo potrebbe essere il primo ciclo ad essere ristampato. A questo punto io non ne sono così sicuro, e sul resto non lo so, onestamente io non so cosa consigliare su questo aspetto, però, mentre qualche settimana fa avrei detto stiamo assolutamente alla finestra, adesso mi vende a dire stiamo alla finestra, ma sicuramente non andiamo a prendere questi cicli verdi, perché questi cicli sono evidenziati in verde, perché con buona probabilità essi verranno ristampati nella nuova versione, secondo me anche molto bella, molto curata, edita da Smoday, quindi io non mi muoverei su questi cicli. Per quanto riguarda un'altra news, è di Long Extended Party, in questi giorni è stata pubblicata The Glittering Caves, che è il quarto, mi sembra, Adventure Pack del ciclo, del primo ciclo che stanno producendo, deve essere un'avventura fantastica. Io non l'ho ancora giocata, sto aspettando di avere la copia fisica, ma già vedete che, insomma, si tratta di esplorare queste caverne, le Glittering Caves, le caverne scintillanti, quindi, insomma, anche qui si pronuncia un lavorone. Tra l'altro ci sarà Glorfindel Tattica, che, come si dice, va un po' ad aggiungersi al Glorfindel Animo e il Glorfindel Sapienza, che sono già stati, diciamo, stampati nel corso degli anni. Il team italiano di traduzione sta iniziando a tradurre anche questo C, questo AP, per cui chi fosse interessato, assolutamente controlla il gruppo Facebook, in modo tale da non perdersi questa possibilità. Spostiamoci poi a parlare un atto degli eventi della comunità italiana. Allora, anzitutto, sabato 9 aprile a Milano avremo un evento epico, che partirà dalla mattina, e quindi si faranno tutta una serie di partite dalla mattina al pomeriggio. Per chi è di Milano, del nord Italia, non si faccia perdere l'occasione, perché vale veramente la pena, sono belle giornate di divertimento, soprattutto alla luce del fatto che con il Revised Corset molti giocatori potrebbero essere interessati, insomma, e quindi si prospetta ad avere un evento interessante. Peraltro, nei vari gruppi Facebook ho intercettato, diciamo, persone di Bologna, di Torino, che, insomma, stanno cercando di organizzarsi, quindi, se posso permettermi di dare un consiglio, sfruttate i vari canali, e c'è il gruppo WhatsApp, è stato creato il gruppo Telegram, il Signore degli Annelli e le CG, c'è il gruppo Facebook, soprattutto, sfruttate questi canali per cercare di creare delle community locali, perché poi, come si può dire, il gioco assume anche tutto un altro sapore quando si riesce a giocare in comunità, per cui segnalo questo evento, ma spero nei prossimi aggiornamenti di poterne segnalare anche altri. Poi, che cosa è stato fatto in questo mese, insomma, in questo mese e mezzo in cui il canale è nato? Allora, sostanzialmente, sono stati fatti parecchi video che spero vi siano in qualche modo piaciuti, interessati, sono stati fatti dei video sulle analisi delle carte del corset, vari video con playthrough sull'analisi dei mazzi starter, la campagna to end dei sentieri di Bosco Atro, del corset, varie, diciamo, video di, così, revisioni, tutorial, differenze tra nuova e vecchia edizione e via via vari video di playthrough, dal true solo al due giocatori, a breve ne verrà pubblicato anche uno in tre giocatori e così via. E cosa penso di fare? Allora, sono già pronti, diciamo, la, il capitolo è legato alla battaglia di Ponte Lago Lungo di cui ho già pubblicato due video, quindi il prossimo che verrà pubblicato sarà proprio la run, quindi la partita con il mazzo deck buildato ad hoc. Poi ho pronto la campagna in true solo a livello esperto, quindi con i danni che si contano man mano tra un'avventura e l'altra del corset, dove, peraltro, poi consiglierò a tutti la visione soprattutto dell'ultimo perché il nostro caro amico Gandalf avrà il suo momento e ho anche pronta una, diciamo, una breve rubrica su un'avventura specifica che è Viaggio a Rosgobel che è stata chiesta da un utente della community e mi è piaciuto insomma farla in modalità progression per cui anche questa qua verrà pubblicata. Che cosa poi ho in mente di fare? Allora, sicuramente quella di concludere le due campagne di cui ho fatto il playthrough quindi sia quella a livello esperto in true solo che quella in in two-handed e queste qui le andrò a completare. Poi, per quanto riguarda i giocatori della prima era sono ormai deciso a iniziare a partire dal primo adventure pack la trattazione di ogni adventure pack in modalità progression per cui andremo a vedere le carte che escono come si interfacciano con le carte precedenti e via via. Lo scopo è farli tutti fondamentalmente fare tutti questi adventure pack e chiaramente andare di pari passo anche poi con le uscite diciamo nuove della riedizione. Per quanto riguarda i giocatori della seconda era ho in mente un paio di cose che sono ulteriori diciamo ulteriori video sui mazzi tematici quindi non solo diciamo i mazzi così come sono ma magari un po' di deck building con il sideboard partite più giocatori e magari sto anche valutando visto che è stato chiesto una modalità diversa di video magari live con le carte quindi insomma adesso fatemi 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 lavorare su questa cosa vediamo cosa ne viene fuori poi ho in mente due video che spero possano interessare soprattutto i giocatori della seconda era che uno sono diciamo le migliori combo del set base quindi non tanto dedicata all'analisi delle carte per sfera quanto le combo che possono innescarsi tra le carte per sfera e un ultimo video su come battere il troll delle colline quindi cercando un po' di far tesoro delle esperienze dei playthrough che sono stati fatti qual è l'approccio giusto insomma per mettere finalmente il primo passo fuori da Boscoatro e iniziare insomma veramente l'avventura nel suo signore degli anelli lcg infine come ultima cosa il canale ha al momento 113 iscritti e vi ringrazio infinitamente perché è un numero veramente altissimo ho deciso che quando arriveremo a 200 farò una sorta di contest o qualcosa del genere in modo da regalare promo o materiale che può piacere ai giocatori alla fine qui vi lascio un po' di link alle playlist dei video che sono stati pubblicati in queste settimane qualsiasi domanda dubbio richiesta fatele pure perché diciamo può essere un momento di confronto e condivisione che faccio volentieri grazie buona serata al prossimo appuntamento sullo stato del gioco